Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo del massaggio californiano, massaggio di recente protocollo costruito da un gruppo di psicoterapeuti giusto appunto californiani. Cosa hanno voluto costruire con questa tecnica di massaggio? Hanno costruito un qualcosa di meravigliosamente valido perché con questa tecnica andiamo a lavorare sulla psiche, infatti è chiamato il massaggio psicosomatico per eccellenza. Un massaggio molto delicato, molto leggero, coinvolgente in tutte le parti del corpo e come ogni massaggio di tipo olistico pensate che già dalla costruzione dell'oleazione sul corpo di una persona andiamo già nelle tecniche profonde del massaggio. Quindi cosa posso dirvi? Un massaggio di una bella personalità, importante per tutte le persone che hanno attacchi di panico, ansia, stress. Quindi proviamo a pensare chi non ne ha bisogno. Quindi altro step formativo importante. Questo massaggio fa parte del diploma nostro olistico e un bellissimo arricchimento messo insieme anche ad altre tecniche di massaggio un po' più invasive e un po' più tecniche perché a volte può succedere a noi massaggiatori di aver bisogno prima di lavorare sulla mente di una persona e poi sul corpo. Quindi provate a immaginare quanto è importante questo massaggio. Pensare di fare un massaggio californiano e poi magari andare ad intervenire con un massaggio decontratturante dopo che abbiamo sciolto alcuni blocchi mentali. Quindi vi aspetto in aula come sempre, corso di due giorni, molto bello, molto importante. Ciao, a presto!